buongiorno ragazzi mi sono appena svegliato sono le 7 ed è tutto buio buongiorno ragazzi buongiorno è prestissimo sono le 7 e mezza e sto andando in sala operatoria fa un freddo assurdo vede sono tutto imbacucato mi mancava solo il cappellino mi sono svegliato prestissimo avete visto la sveglia quella era ritardata perché mi è suonata la 7 e mi sono alzato dopo 10 minuti perché non ce la facevo proprio non sono più abituato a svegliarmi presto ieri sera sono andato a dormire anche relativamente presto è stata mezz'anotte e mezza quindi per il mio standard anche presto però vabbè sto andando in sala operatoria perché il mio medico ieri sera mi ha scritto peppe domani vieni in sala operatoria ma io avrei lezione e ma vieni che l'intervento bello ma alle 10 sei fuori che fai gli dici di no e no cioè è bello ma alle 7 e mezza proprio sto congelando io sono diventato un ghiacciolo con la videocamera in mano arriviamo al poliglinico che mi cambia che sono pure in ritardo col mio solito sono nello spoglietoio mi sono appena cambiato e adesso volo sopra perché è tardi ci siamo andiamo ho appena finito l'intervento adesso vi dico un sacco di cose perché ho fatto prime cose che non ho mai fatto infatti sono tracontento ne vassa la pena svegliarsi alle 7 questi sono il posto mi guanti tutto il resto adesso sono nello spoglietoio sono stanchissimo perché comunque 7 e mezza però sono contentissimo perché per la prima volta ho messo i punti sottocutani non l'avevo mai fatto avevo messo solo i punti normali quelli cutani sottocute non l'avevo mai fatto che diciamo è uno step un po più successivo lo fanno già diciamo la prima cosa che fanno gli specializzanti quindi c'è una bella soddisfazione che mi fa il medico e li dari sottocute a lui che una volta che li facevo infatti me l'hanno spiegato un po impacciato però alla fine ho preso la mano e mi sono usciti anche discretamente bene comunque c'è sempre la supervisione di uno specializzando che per lui ormai è una faggianata per me è la prima volta ero là eccoci faccio giusto non faccio giusto però è stato simpatico sono tutto perché sono le 11 l'intervento è iniziato alle 8 e mezza tipo quindi però interessante poi vi faccio magari se trovo il link di qualche video interessante su come spiegato l'intervento ve lo faccio vedere io magari vi darò come l'altra volta qualche indizio qualche cosa ma quando torno a casa se torno a casa perché adesso forse si lava ciccio perché gli ho detto ciccio me le fai le foto no ovviamente ma figuriamoci se il ciccio mi facesse mezza foto queste volte i miei medico non me le ha fatte se si lava ciccio registrerò io perché io non ho paura di registrare cicciuzzo che ti vuole a tirare dell'air però che ora non ho capito che cacchio è finito ci è andato invece alle lezioni ormai lezioni comunque veramente la batteria del mio iphone non dura un cavolo cioè c'è il 69% non l'ho praticamente utilizzato per niente sono il peppe dal futuro tutta la scena che vi ho messo che finalmente sono riuscito a registrare alcune scene le dovete focare perché youtube non permette di mettere queste cose e potrebbe potrebbe chiudere il canale soprattutto magari c'è una persona che dà fastidio alla chirurgia quindi le ho nascoste se volete vederle ve le faccio vedere sul canale telegram che vi lascio qua sotto domani verso le 22 ve le faccio vedere continuate a vedere il video ragazzi perché verso il finale c'è un'altra chicca che vi piacerà ancora di più di questa sono appena uscito dalla sala operatoria sono tipo le 3 e un quarto sto morendo di fama perché non ho fatto colazione sono a digiuno però ho tante cose che vi devo dire appena arrivo a casa vi aggiorno su tutto perché adesso dove mi devo spiegare mamma mia ragazzi molto molto interessante però cioè questa è un po' la vita che vi dovete aspettare da futuri studenti o studenti e poi soprattutto da medici perché io comunque come dico sempre poi torno a casa e chi si è visto si è visto ok il mio medico magari è scappato un attimo a casa e poi ritorna qua fino a stasera c'è tutto un giorno di sala operatoria è stancante ah ragazzi che stancante fidetevi che stare là io comunque sia alla fine che faccio con quattro punti tengo i perri in due tre cose faccio non è che faccio nulla di così particolare ma lui c'è il medico in generale si spacca per fare l'intervento più l'ansia più lo stress è tutto in piedi è stancante ah mi sa che ho ucciduto un po' troppo con lo shopping online meno male che c'era un po' di sconto risparmio dalla ventina di euro ma sto spendendo 100 euro uffa quanto mi può distruggere una mattina in sala operatoria? cioè arrivo a casa mi cucino rapidamente un po' di riso con i broccoli ma veloce veloce una fettina di vitello e mi metto a dormire mi sono appena svegliato e sono le sei ma voi non avete idea di che stress è per me andare in sala operatoria cioè è da una parte stress ma dall'altra è molto bello cioè lo sapete quando sono felice però stress che voi non avete idea perché alla fine dei conti tenta tutto quello che devi fare non fai scemenze lo dico sempre ma è vero la verità troppo è molto stressante mi faccio quasi mi vado ad allenare va certe volte mi dimentico di cambiare l'impostazione della videocamera non ho mai capito per quale motivo se vado in cucina sono molto scuro allora qui ho un'impostazione tipo sole non lo so perché poi le lampade sono bianche sarà il giallo e vedete che il colore è normale mo vado in cucina e avete visto come sono diventato poi cambio di nuovo l'impostazione con cucina e torno normale torno qua e sembro un bianco cadaverico guardate come cambia i colori ma cose strane comunque sto andando ad allenarmi sono tipo le sei e un quarto vado molto presto perché praticamente non ho fatto avendo pranzato praticamente alle quattro cioè ha finito di pranzare alle quattro che ho fatto la sala operatoria e tutto il resto allora è diventato un puntino pre workout me leno un po prima e la felpa che ho comprato ieri pantaloncini corti e una semplice canotta andiamo ad allenarci video super figo fra 3 2 1 ciao 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 sono appena arrivato a caso un po stanchetto soprattutto perché oggi mi sono allenato solo con il pranzo ed ero tipo 50 grammi di carboidrati poco rispetto ai miei standard però vabbè spero che quelle scene un po musicate vi siano veramente piaciute mi era venuta la cosa ho detto vabbè gli facciamo una scena strafiga spero che l'avete guardato tutto il video vabbè ve lo dico prima di vederlo tutto una ragazza nei commenti dello scorso video mi ha chiesto come mai non è buono assumere carboidrati al mattino diciamo che ci sono tante cose ho fatto un video sul digiuno intermittente che è alla base di questo concetto in particolare tipo di alimentazione ve lo lascio qua sopra comunque sinteticamente al mattino noi abbiamo il cortisolo alto che è un ormone rilasciato endogenamente al nostro corpo mediante un ciclo circadiano questo ormone di sé provoca una condizione di iperglicemia o comunque di un aumentato metabolismo glucidico ora se noi andiamo ad assumere una fonte di carboidrati questa associata al cortisolo farà sì che la vostra glicemia aumenterà molto per questo motivo una colazione all'italiana con i biscotti e molto zucchero al mattino è sconsigliata sarebbe invece preferibile una collezione ricca di grassi e proteine anche se le proteine un minimo stimolano l'insulina però non avete questo picco dell'iperglicemia che sapete bene è alla base poi a lungo andare di patologie come il diabete o comunque condizioni di alterazione metabolica è luna di notte io mi sto preparando una bella tazza di orzo qua vedete bellissimo caldo caldo brucio ancora un mega pancake ciccione guardate con una spolverata gigante di cannella finendo di editare il video di domani ovvero questo video qua che state vedendo voi perché è eccezionale vabbè già l'avete visto quindi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto io vi ringrazio per aver visto veramente questo video finalmente sono contento di avervi potuto accontentare e di mostrarvi ovviamente sfocato mi dovete perdonare ma capite anche la situazione privacy e compagnia bella perché l'ho fatta sfocata ma vi ricordo il canale telegram dove pubblicherò dei video integrali comunque non sfocati quindi per i più che potete vedere io vi invito veramente tanto a condividere i miei video in tutti i gruppi che conoscete dove conoscete per farmi crescere ragazzi veramente il vostro supporto è fondamentale iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando anche la campanella così potete ricevere tutte le notifiche io vi ringrazio per aver visto questo video e vi auguro una buonanotte ciao ragazzi ciao 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 ciao